Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, per consentire lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio e manutenzione dei viadotti Caiafa, Madonna degli Angeli, Vietri e Olivieri, chiuso il tratto tra i svincoli Cava di Tireni e Salerno-Centro, in direzione Salerno. Sulla 16 Napoli-Canosa, fino a lunedì 31 marzo, carreggiata ridotta per lavori di manutenzione al viadotto Vallonalto, tra le uscite Baiano e Velino Ovest, in entrambe le direzioni in tratti saltuari, e per lavori di manutenzione al viadotto Calore, tra gli svincoli Velino Oeste e Grotta Minarda, in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla tangenziale di Salerno, fino alle 6 di sabato 30 marzo, per lavori istituiti alla riduzione di carreggiata tra le uscite Fratte e Vieirno, in direzione Ponte Cagnano. Ma per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità ed il trasporto pubblico locale. Infine potete iscrivervi alla nostra newsletter che è a cadenza quindicinale. Un consiglio per chi si mette alla guida, mantenete la distanza di sicurezza, allacciate le cinture e non utilizzate il cellulare. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Servizio a cura di Acami e Regione Campania.